dal parcheggio del vallone di rio freddo a circa 1500 metri di quota seguiamo il percorso della strada di fondo valle dapprima ancora asfaltata e poi sterrata che si inoltre con percorso pianeggiante verso sud oggi gita in famiglia con un itinerario davvero adatto a tutti con alessio e giovanna compiamo l'itinerario molto semplice che conduce al rifugio malinvern in valle stura la sterrata si inoltre nel bosco di abeti e larici e procede sempre nella medesima direzione si ignorano tutte le paline presenti sul percorso che conducono verso altri itinerari bene come vedete siamo giunti al primo bivio che ovviamente ignoriamo per i laghi da vera e il morti noi proseguiamo sempre sullo stradone serrato alle mie spalle con la sagoma davanti a noi onnipresente del monte malinvern raggiungiamo l'omonimo rifugio situato su un poggio che domina l'intero vallone l'intero vallone molenta concia e passarotte piatto tipico del rifugio buon appetito buon appetito siamo in rifugio malinvern dopo questo bellissimo pranzo che avete visto e si conclude qui questo video una gita molto abbordabile una gita sicuramente adatta a tutti il percorso è praticamente sempre pianeggiante con un'ora di cammino si arriva tranquillamente al rifugio quindi una gita sicuramente consigliata per le famiglie come noi è consigliata anche a chi vuole avvicinarsi all'escursionismo e non vuole faticare troppo sicuramente con questa strada sterrate si arriva facilmente anche senza allenamento e quindi un itinerario particolarmente adatto per questo scopo per chi invece volesse spingersi oltre ci sono parecchi itinerari che partono dal rifugio i laghi d'orgias il colle omonimo poi la traversata i laghi di valscura in valle gesso e ovviamente per gli alpinisti più duri la via direttissima il monte ma l'inverno che è sicuramente una via bella tosta quindi un ventaglio di itinerari davvero molto interessante un saluto a tutti vi ringrazio per aver guardato questo video vi ricordo di mettere un like lasciate un commento se vi va e iscrivetevi al canale un saluto anche da parte di giovanna e da parte della del bell' addormentato alessio ciao a tutti